Dalla tua prima cameretta, alla sua prima cameretta, colorificio BBM è sempre al tuo fianco. Dal 1976. Devolve il tuo 5x1000 ad Ando Sovest Vicentino, un impegno costante e forte del volontariato al servizio dell'UOC di chirurgia senologica dell'Ursotto Berica. Ed ecco la Coppa, l'ospite d'onore di questa puntata di Rigorosamente Calcio, meno di una settimana fa vinta contro la Juventus dei giovani, la Juventus Under-23 ed è qui stasera. Ne parleremo della Coppa, della stagione dei Biancorossi, della stagione dell'Arzignano e non solo, lo faremo questa sera con mister Dan Thomassen. Buonasera e grazie di essere tornato. Ciao. Buonasera, grazie dell'invito. Massimo Briaschi. Ciao Massimo, bentornato. Ciao Gianmarco. Alberto Mantovani, firma di punta del giornale di Vicenza, buonasera, grazie anche a te di essere tornata. Buonasera, grazie a voi. Mattia Serafini, il DS dell'Arzignano dei Miracoli, buonasera e grazie di essere con noi questa sera. Grazie a voi. L'Avvocato Angelo Cascella, buonasera. Buonasera. Anche a te grazie di essere di nuovo qui con noi e con te approfondiremo anche alcuni aspetti che riguardano le squadre, le big della Serie A. è attesa questa settimana la sentenza sulla penalizzazione della Juventus e poi i nostri compagni di viaggio abituali, Giovanni Barcaro, buonasera, ben ritrovato e Anna Trevisan, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Diamo un po' di istruzioni, Anna. Iniziamo subito, allora, inizio con il primo messaggio arrivato ancora prima che iniziassimo la puntata, ossia vincere aiuta a vincere. Grazie ragazzi per la Coppa Italia, ora testa e cuore fino alla fine. Insomma, speriamo che effettivamente abbiamo preso un po' il ritmo, questa è la speranza di tutti voi telespettatori, immagino, ma 335-771-6200, questo è il numero di telefono con cui interagire con noi durante tutta la puntata e io sono curiosissima di sapere, secondo voi, come possiamo fare per arrivare fino alla fine sani e salvi, cosa dobbiamo migliorare ancora. Avremo modo quindi di parlare tantissimo del Vicenza e poi vi invito anche ad andare a vedere il nostro sondaggio su Instagram e votare invece per quanto riguarda la situazione della Juve, attesa per il verdetto sul meno 15. Secondo voi è giusto oppure esagerato? Allora, durante la puntata, mentre vediamo ancora inquadrata la Coppa che è venuta a trovarci qui, ringraziamo per questo la società Biancorossa, è veramente un regalo che ci fa molto piacere e ci onora. Durante la puntata, dicevo, ci collegheremo anche con Fabio Viviani, uno che ha vinto la Coppa Italia, la sorella maggiore di quella che vediamo qui questa sera. Giovanni, abbiamo anche un posticipo da monitorare? Sì, abbiamo un occhio sul Franchi perché è un crocevia per l'Europa questa sera in campo Fiorentina-Atalanta. Siamo poco dopo la mezz'ora ancora 0-0 con la Fiorentina che viene da due mesi splendidi che cerca di scippare, così come l'anno scorso, proprio il posto in Europa nei confronti dell'Atalanta. Allora, andiamo subito dal mister. Mister Thomassen, che significato ha intanto questa Coppa? I tifosi, la curva ha messo subito in chiaro, non ci basta, hanno interesse a uscire dall'inferno della Serie C, vogliamo la Serie B. Abbiamo capito subito anche dalla partita di ieri che non è solo un trofeo di consolazione in una stagione tormentata con tre cambi di panchina, ma è stata anche un'iniezione di energia positiva, o no? Sì, credo sia doveroso comunque innanzitutto distinguere le cose. È un trofeo, ce l'abbiamo davanti, che ha la sua importanza proprio per il fatto che è un trofeo per la città, per la storia del club, per i tifosi, per la squadra, per tutti. Su un binario parallelo poi c'è il nostro percorso, che come ho ribadito ai ragazzi andava avanti senza il trofeo e va avanti con il trofeo. Ci siamo guadagnati un vantaggio notevole sui play-off, che dobbiamo assolutamente sfruttare. Quindi abbiamo tutti i motivi per esserne contenti, senza però rimanere con la testa lì. Perché non basta. Perché non basta, no. Massimo, che significato ha in questa stagione? L'abbiamo raccontata da questo studio, è stato un'altalena di emozioni e anche di illusioni e disillusioni, no? Sì, è stato un campionato un po' così, fra alti e bassi, no? Giustamente ricordavi prima con tre cambi di allenatore, quindi vuol dire che le cose non andavano per il verso giusto. Credo che questo trofeo sia un trofeo importante in questo momento, perché vincere aiuta a vincere, secondo me. I risultati fanno molto. credo che adesso però bisognerà, domenica prossima, iniziare un altro campionato, perché questo è veramente un altro campionato. C'è un vantaggio rispetto agli altri, che è quello di aver vinto appunto la Coppa Italia. e sicuramente il Ministro saprà sfruttare al meglio questo momento, prima dell'inizio delle partite, quelle che poi conteranno per vincere, per andare in B. Alberta, che clima si respira allo stadio? Un bel clima, perché non c'è esaltazione. Devo dire che l'allenatore su questo è molto bravo, perché abbassa e ha fatto capire da subito che il campionato è il campionato. Ieri non era una partita banale, no? No. Per molti aspetti. C'era anche l'emozione dell'ex Mimmo Di Carlo in campo. C'era anche l'orgoglio di non sfigurare. Sì, tante cose. Però mi pare che sia la strada giusta aver capito che il trofeo è una cosa, il campionato è un'altra. Dà le energie giuste, ma fermiamoci alle energie perché poi si va in campo. E su questo è molto bravo l'allenatore. Io glielo devo riconoscere, perché ne sono convinta. Cioè nel motivare lo spogliatoio, nel trovare l'equilibrio anche. Sì, nel dividere le cose. Non si è galvanizzato, non ha galvanizzato. Calma. Anche perché a Alberta non era facile prendere una squadra costruita per vincere, che doveva puntare al primo posto e adesso ridimensionare, tra virgolette, gli obiettivi. No, no, assolutamente. Io non ci credevo. Se devo essere sincera, lo sapete, dico quello che penso. Due mesi fa sono venuta qua, me l'avete chiesto. Il Vicenza va su direttamente. Io ho detto, no, per me è sicuro, passa per il play-off. Quindi dico quello che penso. Quando hanno cambiato allenatore di nuovo non credevo assolutamente che Dan Thomas potesse fare questo percorso e glielo riconosco e quindi va benissimo. Anche sulla Coppa avevi poche chance, poi avevi poche speranze? Avevo tanta paura. Diciamo che fino alla fine del primo tempo era una paura condivisa con moltissimi tifosi. L'Azegnano l'avrebbe portata a casa. Questa è una coppetta o è una coppa vera e propria? Sicuramente noi siamo anche usciti dalla competizione contro chi l'ha vinta. Ogni trofeo è qualcosa di speciale da alzare. Quindi complimenti al Vicenza. È un qualcosa comunque che resta per sempre. Noi l'avremmo volentieri portata a casa. L'ha messa in bacheca. Ahimè sicuramente. È stato giusto così perché quello che poi dice il campo è sempre la cosa più giusta e perfetta che ci sia. Diciamo che il campo quest'anno ha detto anche che l'Arginiano almenti in campionato ha fatto un figurone e ha fatto anche la storia perché è la prima volta che una squadra vicentina che non sia il Vicenza ha battuto il Vicenza. Sì diciamo che abbiamo fatto una grandissima prestazione. Per noi comunque è stata una soddisfazione molto grande per tutta la nostra città eccetera. E quindi sicuramente ci siamo tolti una bella soddisfazione come tante altre su tanti altri campi. e questo comunque ci fa ben sperare per il futuro e ci inorgoglisce molto. E poi ci arriviamo sul futuro dell'Arginiano perché ieri è stato messo un importante tassello. Sì abbiamo fatto un'ottima prestazione, una grande vittoria. Ai fini della classifica comunque è un passo importante per questo... La Juventus dà soddisfazione alle Vicentini quest'anno. Per questo obiettivo che è un po' entrato durante la stagione perché a inizio stagione penso che neanche il più grande degli ottimisti avrebbe pensato di trovarci... Voi eravate partiti per una salvezza tranquillata. All'ultimo minuto dell'ultima giornata. Questo era l'obiettivo. Vabbè diciamo che strada facendo le cose sono cambiate. Avvocato, che significato diamo a questa Coppa e qual è la prospettiva adesso in vista degli scontri di fatto di Rez? Saranno tutte finali da... Sì infatti per me è molto importante perché come è stato detto ora è solo uno che vince. Per cui a me quella precisazione fatta dai tifosi in quel momento invece di esultare, cercare di puntualizzare che questo è un passo però la cosa principale del campionato mi è sembrato stucchevole e inutile in quel momento storico. Forse anche lo sciopero della curva non è stato proprio... Assolutamente. Vedendo anche quello che è successo a Napoli, io penso che tutte le componenti debbano svolgere il proprio ruolo. Fra cui il tifoso deve fare il tifoso. Vedere quello che è successo ieri a Napoli dove il presidente è stato invitato poi dall'autorità pubblica ad andare a cercare un incontro con i tifosi. Per me è assurdo. Cioè è questo che è accaduto, ci rendiamo conto? Sì in una stagione in cui stanno per fare qualcosa di incredibile e miracoloso. Perché c'era riuscito solo Maradona. Esattamente. Quindi vedere quello che è successo alla vigilia della partita o nel caso del Vicenza subito dopo aver vinto finalmente e ottenuto un bellissimo risultato per me è sembrato fuori luogo. Per cui io penso che ogni componente ora si debba serenamente comportare il tifoso fare il tifoso e ognuno debba fare la propria parte perché ci si trova in un momento delicatissimo in cui è facile rompere un equilibrio. Abbiamo visto questo campionato altalenante nel quale sembrava di assistere a un elettrocardiogramma come risultati. Sette vittorie di seguito, poi sconfitte alternate, eccetera. Quindi è importante mantenere una serenità essere concentrati e confluire tutte le proprie energie e tutti nello stesso verso. E va bene. Su questo abbiamo capito che il mister è sul pezzo. Quali sono state le prime mosse quando hai preso in mano la squadra? È stato più sul livello psicologico, più sul livello tecnico, tattico? Beh, parte probabilmente da una mia convinzione che la testa comanda tutto. Questo unito al fatto che il tempo a disposizione è veramente poco ed è il tempo da sempre il primo nemico di ogni allenatore. Non ce n'è mai abbastanza per lavorare, per incidere. Quindi non potevo che partire da provare a dare quello di cui la squadra aveva bisogno in quel momento. Ho avuto bisogno di una settimana, la prima settimana, proprio per dialogare e capire qual era lo stato d'animo di qualche singolo, della squadra in generale, per poi, con le mie convinzioni, con le mie idee, con il mio modo, dare... Sì, ho usato il termine leggerezza molto spesso che non va frainteso con... È la leggerezza che poi ci porta a poter dare intensità, aggressività e tutto il resto. Ma bisogna avere la testa un po' libera, ecco, un po' meno preoccupata. Per cui c'era il peso della maglia, c'era il peso di una stagione che non era andata per il verso giusto. Cos'è che pesava di più? Quando parliamo di peso tendiamo sempre a dare un significato negativo a uno stadio, a un pubblico, a una maglia che ha una storia importante. Non è tutto negativo. Può pesare in certi momenti su qualche singolo che magari ha meno esperienza, però il calcio è questo, si vive di emozioni, io vivo di emozioni, quindi giocare a Vicenza, così come in altri posti simili, chi accetta di venire a giocare a Vicenza accetta anche questo, nel bene e nel male. È chiaro che nel male bisogna saperlo gestire, saper gestire le difficoltà che arrivano da fuori, anche da dentro il campo, bisogna saperle gestire. Le cose che sto apprezzando maggiormente in questo periodo è proprio la gestione delle difficoltà, che non la possiamo eliminare, possiamo solo provare a gestirle. E la cosa che hai imparato di più in questo mese da allenatore della prima squadra? Questa è una domandona da un milione di euro. Sto imparando talmente tante cose che non saprei tirarne fuori una, perché la definisco un po' una centrifuga, no? Quando si va dentro, una situazione già in essere, non a partire dall'estate, con il ritiro, con tutti i tempi a disposizione. Sto imparando tanto veramente a 360 gradi, direi in primi sulla gestione delle persone. Ecco, abbiamo capito che dal punto di vista tattico, no, Alberta, non è un dogmatico come magari i suoi predecessori. Ha adattato, è partito con un'idea, intanto ha risistemato la difesa con un nuovo schema e poi ha ricostruito un po' anche la catena di centrocampo, ad esempio, no? Le prime uscite erano con un 4-3-3 possibile e adesso il 4-2-3-1 probabilmente è l'abito su misura di questa fase del campionato. Sì, lo sa adattare a giocatori che gli consentono anche questo. È riuscito a recuperare... Eh, perché forse c'era qualcuno fuori ruolo anche, o no? Sì, qualcuno fuori ruolo... Di sicuro. Di sicuro. E poi è riuscito a recuperare giocatori che in una squadra mediamente giovane sono molto importanti. Ho sempre sostenuto che una persona come Cappelletti, dico persona volutamente prima ancora di giocatore, perché ogni tanto ci dimentichiamo che i giocatori prima di tutto sono persone, che era importante e non è detto che per essere importante devi correre a cento all'ora. C'è la testa, c'è la personalità, c'è il modo di rapportarsi con gli altri. È stato recuperato quando molti dicevano che era un ex giocatore. C'è qualcun altro da recuperare o da non perdere? Ma credo che fosse quello più... Da non perdere. Mi sta dicendo Massimo, lui come attaccante guarda solo gli attaccanti. Non solo, ma in questo caso sono un giocatore che a volte tocca tre palloni, fa due gol, voglio dire. O due su due, ecco. O due su due. È stato un'assinale di Coppa. Due palloni toccati, due gol. Da rimboccargli le coperte alla sera che non prenda freddo. Vabbè, ma rimane Ferrari? Sarà ancora del gruppo? O abbiamo dei dubbi su Ferrari? Ma non credo... O a dubbi lui. Non è sicuramente un giocatore da scoprire. Non subisce nemmeno la curva del menti, no? No, non mi dà l'idea. Sta vivendo anche personalmente una stagione veramente importante, per cui è un giocatore in salute. Avere un giocatore che fa 19 gol in una stagione e non riuscire a primeggiare... 24, 25. Sì, compresa anche la Coppa. Ma quindi sabato gli fai raggiungere comandini o lo tieni in calda per i play-off? Beh, non è un segreto che sabato non può giocare in diffida. Quindi ci sono un po' di giocatori che se vengono ammoniti l'ultima giornata poi saltano la prima di play-off. Anche no. È un rischio che dobbiamo evitare. Anche no, per carità. Meglio evitare questo rischio. Allora, vediamo in questo video le prime uscite di Dan Thomassen, allenatore della prima squadra. Prima cosa che ho chiesto a ragazzi, dato che non sono assolutamente arrivato con la bocchetta magica, ho chiesto a loro prima della partita oggi di portare in campo protezione, sicurezza e di cercare di assieme a mano con l'altro. Io continuo a essere veramente felice come un bambino perché lo sto vivendo con un grandissimo entusiasmo. Trasformare in ogni partita tutti gli eventi positivi in una piccola scintilla, che siano gol fatti o duelli vinti o tutto quello che riguarda chiaramente quello che succede in campo, ma il nostro sforzo dovrà essere quello di trasformare ogni evento positivo in una piccola scintilla. Mi sto concentrando soltanto su quello di cui ha bisogno questa squadra. Lo dicevo a me stesso quando giocavo e adesso che alleno, non sei mai più forte nell'ultima partita che hai fatto. Quindi con questa regola in testa a mio avviso possiamo affrontare tutte le sfide, tutte le settimane, tutti gli allenamenti con un approccio di estrema fame. Questo è il Dan Thomassen pensiero nelle prime uscite dall'allenatore della prima squadra. Giovanni, le cose che ti sono piaciute di più e le cose che ti sono piaciute di meno finora della gestione Thomassen? A me è piaciuto. Durante la partita contro la Juve è stato ammonito, se non sbaglio. Lui non ha perso tempo, non è andato a discutere con nessuno, forse non era nemmeno una munizione per lui. lui ha continuato a dare indicazioni ai suoi ragazzi in campo. Lì ho molto apprezzato come un po' per la sua natura, un po' per il carattere che avevamo già conosciuto a settembre. Forse lo aiuta a essere nordico e non latino. Non lo so, di fatto lui è rimasto fisso sul pezzo. Mi piace molto come affronta le conferenze stampa e come si è sempre teso all'obiettivo. Secondo me poi prende anche meriti da parte della squadra e maggior consapevolezza. Quindi quello assolutamente. E cos'è che ancora c'è da sistemare? Sul migliorare penso che sia ancora in fase embrionale il suo progetto di calcio. Perlomeno l'ha detto sempre lui che a livello di tempo ancora non ne ha avuto troppo. Vorrei vedere la squadra di Dan Tomasson e non solo il Vicenza. Spero che ci sia tempo un altro mesetto abbondante. E allora sentiamo, qual è il progetto di squadra che ha in mente Dan Tomasson? Devo allargare un po' il discorso perché sarei un presuntuoso a dire che allenando da così poco tempo avere già un'idea chiara in testa a vela jazz secondo me sarebbe un po' da presuntuoso. Seconda cosa, da allenatore credo che l'idea è in continua evoluzione. L'idea di calcio, la visione del calcio. per cui c'è gente che allena da molti più anni di me che ancora mi dice che non ha un'idea chiara. Questo insieme al fattore tempo ha fatto sì che quando sono arrivato l'idea non poteva non nascere dai ragazzi e da loro esigenze e da loro caratteristiche. Io ho una mia visione di calcio che non è né giusta né sbagliata, è la mia. e ho anche una visione di quello che è ogni giocatore qui a Vicenza che ovviamente fino a un mese fa osservavo da esterno ma poi non del tutto esterno perché allenavo la primavera e sono partito dalle loro caratteristiche cercando di mettere ognuno a casa sua inteso come posizione in campo e anche i compiti poi di conseguenza e da lì nasce. Poi sto apportando qualche concetto calcistico ma sempre rimanendo dell'idea che devo semplificare alleggerire e non riempire. Quindi sono piccole modifiche anche a livello tattico che ho portato ma non ha assolutamente l'aria di voler essere un Vicenza di Dan Thomassen. Non è una priorità non ho l'esigenza di etichettare un Vicenza con il mio nome o con la mia idea se sarà così lo dirà il tempo e il lavoro che faremo in campo è quello che riuscirò a trasferire ai ragazzi. Il litigio o la tirata d'orecchi che c'è stata tra Cappelletti e Ronaldo è una cosa che preoccupa lo spogliatoio è una cosa che fa parte del campo è un riconoscimento di una leadership? È una cosa che a me ha fatto un piacere enorme mi spiego uno non facciamo sport e non giochiamo con le bambole quindi a volte i modi nella comunicazione possono essere molto forti e molto diretti ma è perché è il gioco che richiama questo non c'è sicuramente il tempo di mettersi a discutere attorno a un tavolo dentro in campo quindi i tempi chiamano questo io dico sempre che è meglio mandarsi a quel paese una volta in più che non esporsi e star zitti Forse per troppe partite si è lasciato andare il risultato quasi con rassegnazione invece una reazione Io dico che è segnale di una squadra viva di giocatori che si espongono uno con l'altro tra l'altro abbiamo visto ieri ma io spero che la prossima volta capite altri due giocatori due giocatori anche di una certa età e di una certa esperienza a esporsi perché poi come ribadisco ai ragazzi essere forti con i deboli e deboli con i forti Ma c'è un problema Ronaldo? Un problema di che tipo? Un problema non so tattico ad esempio? No Ma ti stai riferendo all'episodio di ieri? No in generale il centrocampo con o senza Ronaldo fa cambio? Assolutamente no La questione è che ci siamo opposti spesso Ronaldo quando sono arrivato era in una situazione fisica non ottimale veniva da da settimane in cui giocava quasi esclusivamente e non si allenava molto questa è una situazione che per tamponare un periodo può andare bene però più si prolunga nel tempo più diventa problematico anche per il giocatore stesso non allenarsi quindi la situazione fisica era un po' precaria a mio avviso nonostante questo comunque ha giocato le prime partite adesso Ronny si sta allenando con continuità senza interruzioni da ormai quasi due settimane ieri a me personalmente è piaciuto io ho visto un Ronaldo in crescita poi dire dove può che prestazione può avere un Ronaldo che sta benissimo e che arriva al massimo questo magari è un altro discorso ma io devo vedere da quando sono arrivato ad oggi una crescita e questo lo sto vedendo anche in lui quindi ieri sono contento nessuno anzi insomma c'è un percorso anche su Ronaldo assolutamente come c'è per tutta la squadra volevo sentire visto che abbiamo la fortuna di avere un DS qui con noi come si gestiscono queste situazioni di campo questo botte risposta plateale che hanno visto tutti i tifosi tra Cappelletti e Ronaldo se capita all'Arzignano li richiamate poi nello spogliatoio li multate cosa accade? penso che quando si ha a che fare con professionisti che sono dentro ad uno spogliatoio e si salutano ogni giorno lottano insieme per un unico obiettivo non ci sia bisogno che intervenga un direttore un presidente la società il buonsenso come sempre deve essere quello la cosa indi per cui queste due anime capiscono che c'è un bene comune che si chiama in questo caso Vicenza che deve fare più punti possibili prendere meno gol possibili fare più gol possibili e quindi quando si è dentro al campo e dentro allo spogliatoio soprattutto si va d'accordo si cerca di costruire qualcosa poi è ovvio che non si possa pretendere che i ragazzi diventano i migliori amici l'uno dell'altro perché questo non è mai possibile si può pensarlo però si può anche creare una situazione così però al contempo penso che sono dei professionisti e devono sempre pensare al bene comune Alberta tu come l'hai giudicata quel momento un momento in cui si è affermata una leadership per il carattere che io a me è piaciuto tanto sì perché a parte tutto che ha fatto bene i capelletti perché insomma aveva perso due palle che ci aveva fatto subire due ripartenze che a me era venuto un po' così però devo dire che a me piace piace e penso che sono cose che si devono gestire tra di loro Lopez ce lo ricordiamo tutti il capitano mi ha sempre detto che a volte si chiudevano dentro lo spogliatoio da loro soli e si arrangiavano e ci pensavano loro e restava fuori anche l'allenatore quindi niente di nuovo sotto il sole Massimo funziona così sì funziona così cosa faceva Shirea ecco in quell'occasione Shirea non tanto così Shirea Shirea è quello sguardo che la parola in un altro modo ma io ho visto delle bottiglie girare per gli spogliatoi voglio dire quindi è normale che sia una cosa così ci deve essere è giusto che ci sia è logico che se poi hai dei ragazzi intelligenti prendono il buono di quello che è una situazione come questa però secondo me è una cosa salutare normalissima avvocato ci sta? ma ci sta ma non in maniera plateale a mio avviso cioè il calcio è pieno di queste cose storicamente la Lazio che vinse lo scudetto con Mestrelli era divisa in due clan andavano agli allenamenti anche con la pistola e fra di loro se potevano altri tempi diciamo erano altri tempi d'accordo era un'altra Italia però è il frutto di una situazione che c'è sempre stata in ogni squadra l'Inter attuale vediamo che in ogni partita si mandano quel paese però non vorrei che si eccedesse in una direzione contraria mi è piaciuta la diplomazia con la quale l'allenatore a poc'anzi ha auspicato anzi ha gradito questa cosa perché rimanga sempre entro forse avevamo notato durante la stagione che mancava ogni tanto una reazione anche emotiva a situazioni negative in campo però da fastidio al calciatore magari vedere che il proprio compagno dinanzi a tutti quanti lo rimbrotti allora Anna chiudiamo con qualche messaggio e poi ci diamo appuntamento dopo la prima pausa per le risposte si allora d'accordo con l'avvocato il tifoso Luca che pensa si stia un pochino minimizzando la vittoria in Coppa Italia capisce che bisogna rimanere comunque con i piedi per terra però almeno per quanto gli riguarda dice è stata una vittoria che ha portato tantissima gioia e tanta anche in altri telespettatori arrivano tantissimi messaggi con scritto Forza Lane Forza Mister tantissimi ringraziamenti continuate così sono stracontenti sia per la Coppa che anche per l'ultima partita chissà dove saremo se avessimo avuto un gioco di squadra magari da un pochino prima c'è chi ci crede veramente fino in fondo e quindi dicono già l'11 giugno noi saremo presenti facciamo tutti gli scongiuri certo però insomma è anche giusto per una volta vedere un po' i telespettatori felici così soddisfatti e poi soprattutto anche questo messaggio perché ne abbiamo parlato più volte di Cavion e quindi grande mister perché si è riuscito a recuperare Cavion che a mio avviso ci scrive questo telespettatore con Scarsella sarà veramente determinante per il finale quindi grazie per la Coppa Italia adesso però bisogna concentrarsi assolutamente sui playoff e dobbiamo crederci tutti di sicuro Cavion è stato decisivo probabilmente nel secondo tempo contro la Juventus e da un paio di partite che stiamo rivedendo quel Cavion che avevamo apprezzato l'anno scorso l'avevamo già visto molto bene a Crema l'abbiamo visto altrettanto bene nell'ultima partita quindi sì penso che metterà in difficoltà da Amper le scelte in mezzo al campo quindi dobbiamo prenderci una pausa abbiamo anche un aggiornamento da dare siamo nell'intervallo a Firenze con la Viola che ha attaccato ha un po' sesso palla ma poi al primo tiro l'Atalanta è passata è uscita male la Fiorentina palla al piede Mele si è inserito e ha battuto a rete per l'1-0 quindi al 45esimo Fiorentina 0 Atalanta 1 in chiave Champions è un risultato li rimette un attimo a distanza allora noi andiamo ci prendiamo una pausa noi e la Coppa vi aspettiamo tra pochissimo Rieccoci in diretta sempre in compagnia della Coppa Italia ripartiamo dalle domande dei tifosi per Mr. Thomassen Anna Sì sono arrivate diverse domande devo dire anche un po' difficile secondo me che insomma metteranno un po' in crisi l'allenatore vai 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 interroghiamolo sì allora partiamo da questa potete chiedere al mister se sabato farà giocare i giocatori diffidati e questo è Paolo da Verona ok scusate non intende correre questi rischi se nella sua testa c'è un portiere titolare oppure deciderà di volta in volta in base allo stato di forma dei due possibili titolari allora sentiamo subito la risposta su intanto come stanno i portieri stanno bene stanno bene entrambi tutti e tre a dire il vero c'è anche Rock ma direi di andare avanti come ho fatto fino adesso ho fatto valutazioni sulla singola partita come faccio anche con i giocatori di movimento quello che può servire ho la fortuna di avere se parliamo prevalentemente di intanto di Jacopucci e di Confente che hanno giocato finora due portieri comunque con caratteristiche diverse ma questo lo vedo come un valore aggiunto come con i giocatori di movimento a seconda della partita che si presenta può servire più una cosa piuttosto che un'altra ma qual è la caratteristica che fa la differenza? ce n'è uno che intanto ha un bagaglio di esperienza più importante e ha sicuramente anche un modo di stare in campo che rispecchia questo rispecchia un po' il suo carattere e anche magari se la cava anche coi piedi sicuramente sì ma quando parliamo di portieri e del gioco con i piedi secondo me è molto anche una questione oltre che tecnica anche di serenità di di trasmettere serenità e di averlo anche con la palla tra i piedi quindi lui magari dà la sua a questa che comunque può essere un'arma molto utile in partite molto calde come saranno quelle con i playoff Alessandro ieri ha dimostrato di stare molto bene perché ha fatto un'ottima prestazione ecco di solito poi quando però c'è il turnover tra portieri si pensa sempre all'aspetto psicologico io ho notato una cosa me l'hanno fatto notare perché poi nel caldo della partita non ci avevo fatto caso che nell'esultanza post Juventus Coppa Italia tutti e tre i portieri sono stati i primi a abbracciarsi anche nel pre anche nel tunnel degli spogliatori ecco questa cosa me l'hanno fatto notare poi sono andato a vedermela è una cosa che secondo me la dice lunga su come stanno vivendo loro la concorrenza interna quindi bene così è normale che tutti questi giocatori ieri avessero i crampi alla fine della partita è normale abbiamo fatto comunque un quanto è passato da Trento uno due due settimane con quattro partite tra cui una partita estremamente dispendiosa dal punto di vista non solo fisico ma anche mentale i crampi da sempre chi ho giocato lo sa sono anche quelli parzialmente comandati dalla testa ci può stare qualche giocatore Ronaldo ad esempio che magari non faceva i 90 minuti da un pezzo nel complesso secondo me ci può stare da mettere in conto la Coppa ti dà anche però quel vantaggio cioè sapere già quando giochi lavorare sull'aspetto fisico in queste due settimane sì più che più che più che lavorare sul fisico ci sono dei giocatori purtroppo come sempre qualche infortunio da gestire c'è chi ha avuto un minutaggio comunque molto alto nelle ultime due settimane chi ne ha avuto meno queste sono sì considerazioni da portare anche a Piacenza sabato quindi più che lavorare ed aumentare a livello fisico c'è anche una gestione molto accurata per me l'aspetto principale è averli tutti a disposizione e poi che stiano meglio possibile Anna altre domande? un altro aspetto fondamentale per i tifosi l'abbiamo capito è la questione della difesa infatti anche tra i vari messaggi cosa migliorare sicuramente quello è uno degli aspetti e allora la domanda che vogliono porre al mister è può finalmente dirci qual è il rimedio per evitare tutti questi gol sempre se lo sapesse probabilmente o comunque come pensa di agire a riguardo la domanda è naturalmente interessante ce la trasciniamo dall'inizio è una domanda che viene fatta credo a tutti le natori che hanno una squadra che prende qualche gol in più ed è naturale che sia così io sarò un po' noioso ma facevo il difensore anche io mi incazzavo sempre quando il fatto di prendere gol veniva adebitato soltanto alla linea difensiva è un discorso che va allargato alla squadra c'è anche da considerare che è una squadra che quando sono arrivato aveva già fatto 60 gol è una squadra che probabilmente nelle sue caratteristiche nel suo DNA non ha quella di essere una squadra che prende 15 gol alla stagione e questo bisogna bisogna accettarlo poi che ci sia da trovare un maggiore equilibrio tra i gol fatti e i gol subiti questo sì un'altra cosa da considerare è anche la distribuzione dei gol perché prendere 10 gol in 5 partite può incidere in una maniera o in un'altra sul risultato perché magari ne prendi 4 in una partita poi le altre sono distribuiti per le altre partite è comunque una cosa da valutare quindi il dato soltanto dei gol presi e fatti preso così è relativo racconta una parte però la fase di non possesso è di tutta la squadra è meglio perdere una volta 7 a 0 che 7 volte banalizzando estremizzando sì però la distribuzione dei gol presi comunque incide detto questo non prendere gol come ci è capitato per qualche partita ha un valore non solo per la classifica per i gol subiti ma anche per la convinzione e l'autostima che trova la squadra da questo punto di vista sono storie opposte quelle del Vicenza e dell'Arzignano una stagione sull'otto volante il Vicenza un Arzignano invece molto più equilibrato anche nel rapporto tra gol fatti e gol subiti raramente ecco ci sono stati risultati clamorosi da questo punto di vista è una caratteristica dell'allenatore come è stata costruita la squadra il modulo scelto penso che come diceva prima il minister è comunque la voglia di aiutarsi che c'è in campo poi con sicuramente con le disposizioni tattiche tecniche in base ai giocatori che ci sono comunque se dopo 37 giornate siamo comunque una delle migliori 5 difese del campionato vuol dire che tutti hanno lavorato bene di solito in Italia paga avere una difesa solida sì anche se ad esempio tanti anni fa non tanti ma il Pisa di Gattuso in Serie B è stata la migliore difesa del campionato e retrocesso come ultimo in classifica perché non faceva mai gol c'è sempre la storia del sul Tirol però ad esempio dice il contrario sì c'è il Catanzaro quest'anno che fa un sacco di gol più di tre di media partita stiamo vedendo intanto la partita la partita contro la Juventus next gen e quindi si tratta un po' un discorso di equilibrio di come si si interpretano tante volte le situazioni in campo e poi c'è la variabile calci piazzati che comunque porta sempre a un 20-30% minimo di squilibrio su questo dato e questo è quello che penso io e Alberta ora inizia un'altra storia quello che è andato bene o che è andato male durante il campionato potrebbe non andare così bene o così male nei play-off qual è la ricetta che a questo punto serve basta l'equilibrio o basta non prenderle bisogna farne tanti no si gira veramente pagina e sono partite che richiederanno sempre uno stress emotivo nervoso molto alto quindi dovrà essere bravo tutto lo staff non solo l'allenatore a fare in modo che i giocatori riescano a tenere senza esagerare una carica emotiva importante non è facile perché ripeto sono persone prima che giocatori quindi credo sia uno dei primi obiettivi perché sono partite molto ravvicinate giustamente faceva notare Dan che giocano ogni quattro giorni e sono tutte partite e prima o poi inizierà a far caldo anche no si però non puoi sbagliare il fatto che siano andate e ritorno a mio avviso sono sempre ogni quattro giorni quindi è un carico emotivo che non molli mai in pratica da quando li cominci a quando arrivi arrivi alla finale non puoi permetterti di avere un calo emotivo proprio e non è semplice da gestire poi voglio dire un po' più di equilibrio e incrociando le dita perché in difesa non è che ha proprio tantissima scelta eccetera quindi per carità fermiamoci lì a proposito Bellic adesso siamo in attesa di capire dal dottore esattamente l'entità dell'infortunio si parla probabilmente di una distorsione della caviglia bisogna vedere no no pensavo che oggi si sapesse qualcosa non ho ancora non voglio dire una cosa per l'altra allora dovremmo avere in collegamento come promesso Fabio Viviani buonasera Fabio ciao buonasera a tutti ciao ciao grazie di essere con noi allora abbiamo abbiamo in studio la Coppa Italia vinta la settimana scorsa dalla Vicenza è la Coppa della Serie C abbiamo invece in collegamento uno che la Coppa Italia quella vera l'ha vinta per davvero la Coppa Italia più importante dacci una tua valutazione il peso specifico di questo trofeo i trofei restano sempre e resteranno sempre nella storia del club per cui averlo vinto è sicuramente un onore e quindi questo resterà allora ti vediamo frizzato temo che il collegamento sia sia saltato appena rientra fatemi cenno che così ritorniamo a parlarne Massimo abbiamo detto della differenza fra la logica del campionato e la logica dei play-off che può assomigliare a quella delle coppe che differenza che cosa serve tu che di coppe negli anni 80 gol trap qualcuno insomma l'hai portata a casa in questo caso è ancora diverso dalle coppe che giochi durante il campionato perché giustamente come si diceva prima sono partite ravvicinatissime è come un torneo diciamo per cui dal mio punto di vista c'è da sfruttare bene il pre cioè c'è una specie di ritiro che c'è adesso queste due settimane qui esatto esatto per recuperare anche anche soprattutto a livello mentale che poi fisicamente uno sai poi sono partite importanti è bello fare queste partite qua è bello giocare questi questi playoff davanti a un pubblico davanti a qua ci saranno penso 10.000 persone i soldi di 10.000 che in queste occasioni non mancano mai è vero che c'è il rovescio della medaglia che se poi le cose non vanno come devono andare magari diventa problematico giocare a Vicenza al Menti però insomma se chiedi a tutti i giocatori se preferiscono giocare al Menti eppure la neopromossa del Girono del Vicenza ha avuto una media di 200 tifosi rispetto ai 10.000 del Menti la Ferrapi però è una società altrettanto importante e organizzata come può essere Vicenza e sono anni che programmano per arrivare a questo risultato e forse sono stati promossi nell'anno in cui ci hanno investito meno è vero è vero probabilmente perché hanno consolidato questo tipo di programmazione intanto c'è il pareggio della Fiorentina dopo due minuti di VAR con l'onfield review con l'arbitro che è andato a vedere verso un tocco di mano che forse era più un buffetto sulla spalla di Toloi Cabral dagli 11 metri ha spiazzato nella finale di Coppa abbiamo visto anche il VAR a cui non eravamo abituati durante il campionato ed è stato anche decisivo ad esempio per convalidare il primo gol di Ferrari VAR che altrove non sempre funziona con il Vicenza tutto sommato ha funzionato anche nel fiscale a rigore contro Sì infatti si discute a lungo sull'utilizzo del VAR c'è chi ne invoca un maggiore utilizzo io dico sempre che ogni cosa è migliorabile però se poi anche è riuscita in parte a migliorare i risultati quindi vediamo quello che succede per il fuorigioco o in altre situazioni comunque un apporto tecnologico è utile perché poi gli interessi sottesi al calcio sono enormi e vedere pensare a quello che è successo negli anni scorsi tipo in un mondiale nel Sudafrica il famoso gol annullato nella partita Inghilterra-Germania ci sono state tante di queste situazioni che diciamo un apporto tecnologico è utile in tal senso è certo allora dovremmo essere di nuovo in linea con Fabio Viviani eccoci come va intanto in Turchia come sta procedendo la stagione incrocio le dita ma molto bene abbiamo fatto un filotto di sei vittorie consecutive siamo rientrati prepotentemente nei play-off incrociamo le dita mancano ancora quattro giornate abbiamo squadre importanti davanti però ci proviamo non era l'obiettivo siamo arrivati qua che eravamo quattordicesimi e piano piano stiamo portando a casa un risultato importante però è ancora lunga è ancora lunga è ancora lunga anche qui a Vicenza senti come lo stai vedendo il Vicenza cosa ti piace della gestione Thomassen? è difficile da dire perché comunque è da poco che è intervenuto credo che la parte più complicata sia gestire quello che era come posso dire le aspettative che questa squadra aveva sicuramente ha una rosa importante che tutti si aspettavano che facesse meglio in generale quindi dover gestire queste aspettative è l'aspetto più complicato per un allenatore adesso si affrontano i playoff vanno affrontati con la speranza di vincere non con il dovere di vincere perché sennò il peso diventa complicato meglio la speranza che il dovere che altri consigli hai da dare da mister a mister? Consigli non ne ho perché è sempre complicato parlare da fuori so che ha le conoscenze necessarie ci siamo anche incontrati in trasmissione l'ultima volta che sono stato e quindi consigli non ce n'è ripeto credo che la parte più complicata sia trovare il giusto equilibrio tra le aspettative e le potenzialità della squadra ha sicuramente una grandissima capacità offensiva ovviamente questi sono i numeri che parlano chiaro nei playoff possono essere una cosa importante perché sapere di poter comunque segnare in qualsiasi momento è sicuramente importante non scopro l'acqua calda che bisognerà trovare un equilibrio maggiore dietro perché se non si concede se si concede meno in difesa ovviamente le cose diventano più semplici ieri c'è stato una sorta di derby del cuore con Mimmo Di Carlo hai avuto modo di vedere qualcosa? no ieri no perché giocavamo anche noi quindi è stato un po' complicato vedere ho visto il risultato visto che ha vinto il Vicenza e questo mi fa piacere per Mimmo è stato un rientro inaspettato perché l'avevo sentito la settimana scorsa e non si aspettava proprio di essere chiamato invece è stata una cosa improvvisa che gli ha fatto piacere ovviamente e adesso è un allenatore esperto che si presenta ai play-off col dente avvelenato senti spesso si è detto che c'è un'intera generazione di Vicentini che non aveva ancora visto il Vicenza vincere adesso abbiamo rotto questo tabù con la Coppa vinta la settimana scorsa qual è l'eredità però della Coppa vinta dalla tua squadra? cosa rimane a 26 anni di distanza? guarda noi come gruppo rimane tantissimo perché abbiamo avuto la fortuna di essere un gruppo coeso anche prima di quello straordinario successo e quel successo ha reso indelebile il nostro passaggio a Vicenza quindi per noi è sicuramente una soddisfazione personale è come dicevo prima nella storia di questo club che è uno dei più antichi del campionato italiano quindi questa è una grande grande soddisfazione che ci rimarrà sempre e andiamo invece a 25 anni fa se ci fosse stato il VAR cosa sarebbe cambiata di quella di quella semifinale? probabilmente saremmo andati in finale però io sono un figlio dei miei tempi nel senso che questo è stato questo era quello che ci siamo guadagnati è comunque un ricordo grandioso ed è finita qui la semifinale è stato il nostro teatro massimo il vostro teatro massimo e non te la sogni ancora di notte allora? no no fortunatamente non sogno né le cose belle né le cose brutte insomma sono abbastanza appagato da questo punto di vista per cui non ho né incubi né sogni insomma continuo a vivere la giornata fortunatamente faccio una cosa che mi soddisfa molto ho trovato un ambiente eccezionale abbiamo 18.000 spettatori tutte le domeniche in uno stadio fantastico per cui non ho tempo per i ricordi insomma mi piace vivere la giornata cercare di fare il meglio oggi abbiamo in studio una tua vecchia conoscenza Alberta Mantovani che ha una domanda per te non conosco me la presentate ciao amico non posso non chiamarti così perché ci riega un affetto profondo io volevo far notare una cosa Fabio Viviani che è una delle persone più serie che io ho conosciuto nell'ambiente calcio nella mia purtroppo lunga carriera e non lo dico perché è in collegamento è in collegamento ma lo penso deve fare l'allenatore all'estero e non si io non ho mai capito perché in Italia una persona così con le sue capacità con la sua serietà niente da fare allora questo devo dire a me di spiace chiamolo a Massimo Briaschi intanto e poi sentiamo la sua risposta com'è che uno come Viviani deve andare in tutti perché va a fare esperienza all'estero e poi porta ma c'hai capelli bianchi ormai ma c'hai capelli bianchi ormai quanta esperienza gli dobbiamo far fare la barba Fabio ormai allora perché deve andare all'estero uno come Fabio Viviani non c'è una risposta unica voglio dire per me l'esperienza all'estero è molto molto appagante si viene molto più valutati per quello che si che si fa durante la settimana ovviamente i risultati incidono anche qua ma molto relativamente o comunque non relativamente in parte ma non così fondamentale l'importante è riuscire a costruire qualcosa e questo viene valutato viene valutato nella mia esperienza sia nei liberati arabi che qui stiamo facendo crescere giovani giochiamo con un 2004 tutte le domeniche un portiere del 2003 secondo me di grande futuro e e questo a me piace questo a me piace posso essere diretto con i miei diciamo così superiori non capisco quello che scrivono e questo è un grande vantaggio sempre e questo è un bel vantaggio in effetti dovremmo scrivere in turco anche i nostri giornali o quello che commentano e questo è un altro grande vantaggio però all'estero sicuramente ci si apre di più la mente bisogna essere molto più come posso dire elastici molto più comprensivi anche delle abitudini delle culture delle persone che incontri e questo è un aspetto che mi piace molto poi il calcio il calcio e ho avuto sempre la fortuna di lavorare all'estero in posti molto belli e questo è un grande vantaggio un grande vantaggio Dan un 2006 l'hai fatto esordire anche tu ieri però i giovani non giocano solo all'estero giocano anche in Italia sì ha fatto enormemente piacere poter mettere dentro Federico ragazzo che conosco per ovvi motivi molto bene è stato promosso in primavera l'estate scorsa con un anno di anticipo ha avuto un impatto molto importante sul campionato primavera facendo un paio di mesi fatti veramente bene poi come è giusto è quasi fisiologico che sia ha avuto anche lui le sue difficoltà fisiche ha avuto allenarsi in prima squadra ma per un ragazzo alla sua età è solo naturale vanno accompagnati comunque arrivare ieri a farlo esordire chiaramente in primis un grande complimento alla sua età al settore giovanile e a tutti quelli che hanno contribuito a farlo arrivare dove è arrivato ieri tra cui Dan Thomas anche perché con la penuria di attaccanti che c'è di giovani in Italia insomma da Mancini Alessio Tonini insomma sono ragazzi di grande prospettiva quindi un applauso al settore giovanile di Vicenza va fatto allora Anna le ultime domande dei telespettatori per Dan Thomas che poi ci lascerà al termine di questa parte ecco a proposito di Federico il giovane inserito proprio ieri ci chiedono visto che Dan conosce bene la squadra della primavera ma non ci sarebbe nessun altro giovane difensore che potrebbe sostituire quelli della prima squadra e siamo sempre in difesa siamo sempre lì per continuare poi però c'è anche un'altra che non riguarda la difesa però questa era dovuta in realtà dobbiamo ricordarci che in prima squadra dall'estate scorsa c'è Cristian Corradi che ormai è parte integrante della Rosa e quindi è a disposizione come tanti altri è un ragazzo giovane che vive anche lui di momenti alti e momenti bassi confido nell'averlo a disposizione come tutti gli altri per i playoff sì assolutamente sì quindi direi che lui è un 2005 quindi è in età primavera assolutamente mentre per quanto riguarda la situazione in fortuna interessa particolarmente la situazione di Gerardi ci sarebbe la possibilità di un suo ritorno per le prossime partite anche perché abbiamo visto un pochino un calo da quando lui insomma non c'è più stato in campo e poi eventualmente si può aggiornare anche un po' alla situazione di Valietti e Dalmonte Gerardi peraltro che è uno dei bomber della squadra che non fa male no assolutamente no contiamo abbiamo fatto un summit l'altra mattina con lo staff medico e contiamo di averli tutti e tre quindi Valietti Gerardi e Dalmonte per la prima dei playoff poi c'è chiaramente da distinguere il percorso che ha Mario viene da una pausa molto più lunga degli altri due perché gli altri due hanno giocato anche recentemente e quindi da aspettarsi che magari la piena forma la acquisisce soltanto giocando però già averlo a disposizione è sicuramente positivo giochiamo alla sfera di cristallo dove si vede Dan Thomasson tra un anno? Dan Thomasson in questo momento ha talmente tante cose a cui pensare questo è un dribbling no non è un dribbling no è la verità è la verità questo è un bel dribbling non ho veramente il tempo e non lo voglio neanche fare sto chiedendo ai ragazzi di stare con la testa sul presente e se non lo sono io non sarai coerente ci dite una squadra che volete evitare ai playoff Vicenza e Arginiano? ci sono troppi fattori non sto facendo il politico metto le panni il democristiano ci sono troppi fattori che incidono c'è il fattore ambientale quindi trovare una squadra dal sud può avere i suoi vantaggi e anche no il tempo è poco per preparare l'analisi dell'avversario perché veniamo a sapere il 4 con chi giochiamo il 7 è uguale per tutti quindi ci troviamo tutti in questa situazione quindi avere una squadra il proprio girone ti permette di avere un avversario che conosci meglio ma allo stesso tempo l'hai già incontrato sono veramente tanti i fattori che incidono quindi al momento non saprei dirvi noi dobbiamo ancora arrivarci questo è un doppio dribbling e però non è escluso neanche un nuovo derby no Alberto? io spero di non incontrarli proprio se non nella finale va bene così? facciamo così va bene allora ci dobbiamo prendere un'altra pausa io ringrazio tantissimo Fabio Viviani di essere stato in collegamento con noi grazie in bocca al lupo davvero allora per questo finale di stagione speriamo di risentirci in una delle prossime puntate in bocca al lupo Fabio grazie ciao a tutti in bocca al lupo a tutti e in bocca al lupo naturalmente anche a Dan Tomassen che ci deve salutare alla fine di questa parte per andare a preparare il prossimo match di campionato e poi i playoff grazie davvero e grazie di averci portato la Coppa un trofeo che comunque mancava da qualche anno nella bacheca del Lane Rossi noi torniamo tra pochissimo di nuovo in diretta dallo studio di Rigorosamente Calcio è rimasta con noi la Coppa non c'è più Dan Tomassen però ci rimane il tempo prima di dare la linea R Sport di approfondire gli ultimi aspetti intanto c'è da approfondire la stagione dell'Arzignano torniamo a parlare dell'Arzignano Alberta è una stagione che abbiamo detto sorprendente sembra però quasi di offenderli ormai perché sono stati una bella sorpresa all'inizio del campionato poi non hanno fatto altro che confermarsi sì sì no aveva ragione lui insomma tutti pensavano che l'Arzignano avrebbe lottato per restare in Serie C senza tanti per temi danni loro per me scaramaticamente è l'ultima giornata ma non è così perché sapevano di aver costruito e di avere un gruppo equilibrato perché poi è così l'Arzignano l'abbiamo visto anche contro di noi non è che ha fatto chissà cosa ha fatto una partita ordinata equilibrata però sembravano le cose proprio che servono per giocare anche in quella categoria lì quindi meritatissimo quello che sta arrivando e gli auguro con tutto il cuore veramente con tutto il cuore e mi fermo qui perché siccome sono scaramantica anch'io gli auguro con tutto il cuore però non può essere un caso se avete battuto la prima della classe la Feral Pistrò avete battuto il Pordenone la Pro Sesto tra l'altro in trasferta la davanti a parte l'Ecco forse le avete battute un po' tutti o andate a un ritorno vuol dire che qualcosa di solito c'è fino a ieri la Feral P in trasferta aveva perso solo contro di noi che poi comunque anche qui la Feral P ad Arzignano aveva fatto una grandissima partita per i primi 60 minuti dove comunque aveva fatto molto bene il vantaggio che avevano di 1 a 0 su di noi poteva anche essere superiore e con l'Ecco abbiamo perso sia l'andata che il ritorno invece comunque con il Vicenza abbiamo vinto con il Pordenone abbiamo vinto sempre una partita abbiamo battuto la Pro Sesto in casa loro alla terza giornata quindi comunque i punti sono arrivati abbastanza in ogni campo sì anche la capacità di accontentarsi ogni tanto di un pareggio anche di pareggi magari apparentemente in colore quello che è mancato anche a Vicenza l'incapacità di pareggiare un gioco puntuale uno vittorio uno sconfitto in chiave salvezza noi siamo la squadra che ha pareggiato di più con altre due o tre società e comunque sono dei punti che poi ti portano a fine anno ad avere quel piccolo cuscinetto magari di distanza come adesso dalla zona play out perché più o meno ancora che parla con scaramantico no no non sono scaramantico però ovviamente all'inizio anno era impensabile per noi infatti anche ieri eravamo lì che ancora non sapevamo bene il regolamento dei play off eccetera si tratta di scartabellare sì non ho vergogna a dirlo e quindi è una cosa piacevolissima penso anche meritata perché sono il primo che penso che quello che dice il campo è la cosa giusta e che niente succede per caso quindi un campionato di solito non tradisce no hanno loro lui è modesto non di nome ma di fatto non di nome ma hanno hanno creato grazie a questo signore qua perché hanno creato un mix perfetto secondo me dalla società dal presidente a scendere fino alla alla rosa dei giocatori hanno con un budget relativamente limitato adesso io non so che budget però insomma credo sicuramente diverso da tante altre squadre che si trovano davanti a loro e quindi va fatto un grande applauso assolutamente allora abbiamo un po' di messaggi ce ne sono ancora certamente allora innanzitutto ci scrivono questi ragazzi comunque meritano la nostra pazienza perché effettivamente se vengono pressati troppo psicologicamente perdono energie mentali siamo tornati a parlare della nerossa sì certo 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 perché stavamo parlando dell'Arzignano quindi ecco questi sono messaggi diciamo di nuovo sul bianco rosso però poi ho un'altra domanda invece che è un po' una via di mezzo diciamo credo che nei playoff grazie alla nostra vostra pazienza saranno più lucidi e andranno sicuramente avanti cosa c'è da migliorare sicuramente appunto il fatto della difesa e anche trovare sempre più una forma fisica mentale e anche un pizzico di fortuna che non guasta mai ci scrivono poi invece cosa ne pensate voi in studio della notizia di calcio mercato la quale dice che l'Empoli sta seguendo con insistenza un certo Lattanzio cosa ne pensate giocatore del Vicenza in prestito all'Arzignano e quindi chi meglio del direttore può dirci qualcosa di bene bravo una bella notizia a Vicenza ha fatto una partita straordinaria secondo me intanto ringrazio Massimo ma io sono sempre dell'idea che da soli si fa poco ma in tanti si fa tanto e a partire dal presidente Lino Chiles e dal consiglio di amministrazione al direttore generale Matteo Toni all'allenatore il mister che comunque dal campo e a livello umano è una persona speciale non solo per i concetti calcistici diciamo che questo è il nostro segreto se vogliamo chiamarlo così sono cose semplici ma che comunque che penso paghino e su Alberto mi sento di dire che è un ragazzo che io seguivo Dani con il Vicenza si è appunto deciso di fargli fare un percorso in prima squadra con noi che lui aveva già iniziato da due mesi a Vicenza è un ragazzo che io avrò visto giocare dal vivo circa 15 volte comunque è una persona stupenda un ragazzo che viene da una famiglia molto umile di bravissime persone un ragazzo atipico perché non ha molti grilli per la testa e questo lo si vede anche in campo perché se si è attenti si vede che lui è uno che bada molto al sodo che è molto intelligente a livello calcistico la scelta la sbaglia poco di fatti anche ieri nel gol che abbiamo fatto c'è il suo zampino è un applicato quindi io non posso fare altro che augurarvi il meglio perché è una delle persone che merita tanto in questo mondo qua in questo sport qua perché fa dell'applicazione del sacrificio staremo a vedere se le voci di migliorato sono vere è più facile crescere nell'Arzignano che nel Vicenza per un ragazzo giovane sei d'accordo? Soprattutto con queste caratteristiche ma sicuramente l'ambiente aiuta molto il nostro contesto è molto sano non voglio dire che Vicenza non lo sia però anche solo giocare di fronte a 500 persone 800 persone giocare come diceva possibilità di sbagliare dopo i valori dei giocatori obiettivamente anche abbiamo visto ieri in Serie A la scena di Fagioli che per un errore è scoppiato in un pianto che non si vede spesso e che per ora racconta della fragilità è un grande percorso che sta facendo la Juventus con questa Under 23 Next Gen che sta portando molti ragazzi ad assaggiare la prima squadra a debuttarci e questa è una roba è tanta roba bisogna fare i complimenti a loro perché però questo è anche un assist per cominciare ad avere uno sguardo come facciamo di solito alla fine di rigorosamente calcio alla Serie A e volevo chiamare in causa l'avvocato Cascella questa è una settimana che potrebbe stravolgere la classifica della Serie A per l'ennesima volta oppure lasciare le cose come sono si attende il verdetto sul ricorso per la penalizzazione subita dalla Juventus come finirà? Si possono fare pronostici? Ma nei primi giorni quando scoppiò questo bubone tutti quanti leggendo le intercettazioni telefoniche che quotidianamente venivano somministrate tutti quanti reagirono dicendo che vergogna scandalo vergognoso tutto quello poi man mano la gente ha la memoria corta solitamente e fra un po' ci sarà questo processo di beatificazione in cui tutti quanti già ora stanno lavorandoci sotto criticando la sentenza vergognosa iniqua per i 15 punti per il fatto di non aver coinvolto altre squadre e così via io ricordo che questo organismo che ora è chiamato a decidere un organismo del CONI un organismo che dovrebbe entrare soltanto non nel merito della questione ma è un organo che deve verificare se vi siano stati o meno delle violazioni importanti dei principi quindi o conferma o toglie ma non riduce diciamo oppure potrebbe rimandare all'organismo che ha emanato la sentenza un po' come era stato fatto tempo fa a proposito del Milan nella sentenza dei colleghi del Tassi Lo Sanna che rimandarono all'UEFA dando però dei segnali ai quali l'organismo dovrebbe uniformarsi attenersi però quindi non entrare nel merito laddove invece vedendo quello che si dice eccetera sembrerebbe che questa è la cosa che mi ha dato molto fastidio quasi che tutti quanti diano per scontato che su questo aspetto venga annullata la sentenza e poi addirittura su quella questione scoppiata la settimana scorsa con la conclusione delle indagini la notifica delle conclusioni delle indagini sul versante sul filone stipendi e in quel caso addirittura si parla di un patteggiamento non si è ancora riunito l'organismo che deve decidere per cui già si arriva a questo patteggiamento sicuramente delle violazioni ci possono essere state le intercettazioni sono sotto gli occhi di tutti la verità però dei tribunali è diversa da quella che a volte è il reale accadimento dei fatti io ritengo che delle violazioni ci siano state poi dopo è anche vero che molti colleghi che valutano la valutano alla questione dal punto di vista quasi civilistico e penalistico è chiaro che noi parliamo di giustizia sportiva la giustizia sportiva ai suoi tempi non può aspettare dieci anni di un procedimento di un processo ordinario per divenire una sentenza per cui è difficile fare una previsione io ritengo che diciamo ci possano essere degli estremi per annullarla o rimandarla però la violazione effettiva c'è stata non possiamo negare che certo Massimo come finisce questa storia o studiarci a seconda di punti di vista a parte che io sono profano e l'avvocato Cassella l'esperto l'esperto però io non capisco perché i 15 punti alla squadra cioè ci sono stati dei sono state fatte delle cose che non si potevano fare a livello dirigenziale probabilmente no perché parti dal presidente a scendere quindi verranno colpiti i dirigenti che hanno messo in opera perché i calciatori sul campo i calciatori sul campo io questi 15 punti dal mio punto di vista li ritornano tutti poi dopo ci sarà qualche non rischia di giustificare i mezzi per il fine in questo modo cioè i giocatori arrivano in seconda terza posizione chi ha fatto le marachelle viene colpito e loro raggiungono un posto che forse non avrebbero potuto raggiungere sì ma se sanzioni il giocatore non la squadra cioè i 15 punti al club io dico bene hai sbagliato hai firmato un documento che non dovevi firmare hai fatto prendi squalifica il dirigente 5 mesi di squalifica prendi un anno di squalifica il discorso che riguarda i giocatori è un discorso che riguarda soprattutto la manovra stipendi non confondiamo le due situazioni l'attuale situazione quella che verrà decisa probabilmente dopodomani riguarda le plusvalenze sì lui dice ma i giocatori cosa c'entrano il sistema che ha riguardato la società sportiva poi io calciatore non posso sapere se poi tu mi vendi a 10 piuttosto che 20 perché è una tua valutazione io non entro nel merito di quello che tu ritieni sia il Prezium Doloris viceversa dal punto di vista della sanzione nell'ordinamento sportivo essa deve possedere il requisito della afflittività cioè deve essere tale da dare una sanzione tanto che in alcuni casi addirittura se non può essere data in maniera afflittiva nel campionato attuale viene posticipata la sanzione a quello successivo quindi questo è il fine è il punto di riferimento o di ogni procedimento dal punto di vista sportivo per cui allora quando si è individuata in 15 punti la sanzione corretta era perché hanno fatto dei calcoli e quindi immaginavano che con 15 punti la società sarebbe stata al di fuori da un discorso coppe coppe fermo pensando che poi lì si può aprire un altro discorso con l'UEFA perché a sua volta l'UEFA potrebbe a prescindere da quella valutazione ritenere violate le proprie norme e quindi sanzionare a prescindere dalla sua valutazione plus valenza quello che scusami quello che mi lascia perplessa è che sembra che le plus valenze le scopriamo oggi no no ma sono plus valenze diverse però da quelle del passato cioè ripeto loro prima sceglievano la cifra e poi il giocatore non le facevano con altre squadre ok però lo sai anche tu che le plus valenze ci sono da sempre nel calcio ma era un sistema diverso era l'opposto solo da sempre e dappertutto e dappertutto sai anche tu che prima hanno messo un milione e mezzo e poi hanno deciso di metterci al posto della X mancini io non c'ero e quindi me ne cavo però e non posso fare il nome ma io ricordo che 7-8 anni fa un dirigente importante mi ha detto a capirci eravamo io e lui senza plus valenze salterebbe per aria il calcio in Italia allora o facciamo finta di non saperlo e facciamo finta di essere la bella addormentata nel bosco o quella volta mi è stata detta una grande bugia no sono due cose diverse secondo me ma sicuramente le plus valenze sono auspicabili da una società cioè io società io Arzignano se prendo un giocatore lo pago 100 euro e lo rivendo a 100 milioni di euro faccio una plus valenza per cui bacio per terra il problema è che la punizione che è stata elevata alla Juventus è nel fatto di aver creato un sistema che utilizzando tra le altre cose delle plus valenze abbia rappresentato dei bilanci in maniera fittizia fatemi sentire in un flash il dirigente sportivo qui stiamo parlando dei massimi livelli della serie A del calcio italiano naturalmente non faccio la domanda sciocca di chiedere se anche se anche i bilanci però guarda non ti nego che però proposte di questo genere vi sono arrivate? no assolutamente no nel senso nessuno mai è venuto a dirvi scambiamo due giocatori a questa cifra così sistemiamo entrambi i bilanci no guarda noi siamo veramente un libro aperto anzi è un piccolo obiettivo che ci siamo posti quello magari di vendere qualche ragazzo no? perché nel percorso che stiamo facendo da anni anche avere un feedback da parte di una società di categoria superiore da parte di una società con obiettivi diversi da quello che può essere il nostro sarebbe comunque un piccolo traguardo per il calciatore e per la società avere qualcuno comunque magari arrivato a zero che va via a 10 insomma esatto allora Anna abbiamo un sondaggio e abbiamo anche i nostri celeberrimi meme per chiudere questa puntata certamente allora andiamo prima con il sondaggio che sono andata ad aggiornare proprio pochissimo fa e questo è l'esito questo è il clima di nostri telespettatori che hanno votato appunto per il 54% il fatto che sia insomma giusto questo ecco magari avessimo fatto lo stesso sondaggio tre mesi fa era 90-10 probabilmente sarebbe diverso si agisce per fede religiosa perché il calcio è come una religione per cui io non ho visto mai uno juventino accusare la Juve o un interista accusare l'Inter eccetera eccetera andiamo molto velocemente invece con i meme della settimana allora innanzitutto visto che è stata Pasqua ho trovato questo che mi sembrava doveroso ossia l'uovo che avrebbe voluto lei insomma la donna invece l'uomo che le ho preso io come uomo e quindi eccolo lì Osimène in Napoli poi abbiamo questo che ha scatenato un putiferio in questa settimana insomma il Akimi che si è lasciato con la fidanzata e la compagna insomma magari avrebbe sperato in qualcosa di più invece lo scrigno è vuoto perché il buon Akimi ha deciso di lasciare tutto alla madre e quindi non si è trovato nulla in tribunale ha scoperto che è nulla tente ecco pensavo di ereditare qualcosina questa mi ha fatto troppo ridere ma soprattutto la descrizione perché vedete durante una partita due ragazzi per vederla si sono arrampicati sopra quest'albero e quindi nella descrizione c'era scritto come vedere una partita uno procurarsi una scala due salire sull'albero più vicino e poi chissà come mai la prospettiva di vita delle donne è sempre un pochino più alta di quella degli uomini ecco forse spiegato il motivo e poi invece andiamo con il Vicenze insomma stadio sold out per l'unica partita decente della stagione quindi tutti molto felici poi però c'è stato lo sciopero del tifo per i primi dieci minuti quindi una faccia un pochino più sconvolta più perplessa per la situazione e infine dobbiamo concludere con questo quindi con lo striscione alla fine della coppa con la frase insomma che tutti conosciamo e questo è il commento dei giocatori a fine partita probabilmente c'è un video che clima questo è il riassunto va bene siamo alla fine ringrazio Giovanni Barcaro Anna Trevisan Massimo Briaschi Alberto Mantovani grazie a voi e Angelo Caccella deve essere stati con noi la linea va a R Sport appuntamento con rigorosamente calcio lunedì prossimo buonanotte dalla tua prima cameretta alla sua prima cameretta colorificio BBM è sempre al tuo fianco dal 1976 devolve il tuo 5x1000 ad Ando Sovest Vicentino un impegno costante e forte del volontariato al servizio dell'UOC di chirurgia senologica dell'Ulssotto Berica Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti